Che bel cappello Robert, ma chi te l'ha donato? Chi? Chi? Uuuuh caro amico appassionato di gaming e di Hearthstone, sta arrivando il Blizzcon stasera, live, è venerdì oggi, sì? Sì, è venerdì, alle ore 22 sarò live sul mio canale Twitch che trovi in descrizione e vedremo cosa annunceranno al Blizzcon nella cerimonia inaugurale l'inaugurazione di questo incredibile Blizzcon in cui spareranno tutte le cartucce quindi sapremo di più su Warstone, su World of Warcraft, Overwatch 2, Diablo Immortal, Diablo 4 e tutto quello che ci diranno ma oggi c'è un deck straordinario, torna il Warlock, fantastico, con tre soli minion, ma minion che ne sanno e un deck che ci piace molto, è un deck che si impenna, ah sì, l'audience si impenna vai, sparalo, guardalo c'è l'altro pardo, te pensa c'è, è arrivato l'altro pardo, cioè non si è fatto vedere per dei mesi io ando verso l'oglio al campanello, eh lui con la storia del lockdown, con la storia che deve guardare al cane, al gatto, al lupo un casino di storia, è apparso l'avranno chiamato purtroppo purtroppo, scusa ho letto purtroppo se vedi verde qualche bottone non è mai fireball di destino ciao Emiliano, grazie di essere passato ma aspetta, allora aspetta, ma questa roba devo farla perché chiaramente ebbè l'adrobardo è un monumento, gli facciamo un monumento? ma col culo post training o pre training? comunque ma questo forse ce la facciamo questo è, non so come si chiama bene un blocco di ghiaccio, comunque raga, stiamo cercando di dominare la partita al final di sia contro che non sia, vabbè, il primo turno non ha fatto niente quindi i pirati non ci saranno all'arrembaggio, eh, sti cazzi e vai, bandiera nera trionferà dimmi questo proprio non c'è raga, questo deve solo expare finito risolto il problema ma a sto punto chiedo a Emiliano una cosa importante Emiliano è un giocatore della prima ora di Hearthstone ha fatto Legend grazie al nuovo sistema di ranking truccato ma acquistare la nuova espansione di Hearthstone o ti sei rotto definitivamente il cazzo? questa è la grande domanda che voglio fare a Emiliano da giocatore veterano a giocatore veterano School of Spurts? vabbè, questa raga non vinceremo ma noi ci divertiamo per prima che ho preso il pass Mario Twitch è questo guarda che è arrivato Mario Twitch a due Mario Twitch è a due non so perché se si traccia in mente Mario vedo che Emiliano stava scrivendo qualcosa comunque, raga possiamo riscarci da subito? vogliamo fare il suicidio collettivo subito? aspettiamo non lo so Mario 2 finché non lo dichiaro clinicamente mortissimo non posso abbandonarlo eh, ci sta che comunque Emiliano ha tutta la collezione completa più di mia, eh giusto Emiliano? proprio completa, totale, completa sono Rafan che se è molli non è più completa eh già, infatti quindi non ho la collezione io migliore in Italia sicuramente c'è qualcuno a pari con Emiliano ma non so per Emiliano comunque qua siamo a nove carte e che cazzo vi racconto? mettiamo carte nel mazzo tanto sarà una verità lunga lunghissima questo ha dieci carte raga capiamo se è veramente qua per expare basta cioè c'è il botte che ogni tanto fa così fine e potrei buttarlo Rafan adesso uuuuh bastardo cazzo questo è un rischio però beh va bene adesso glielo gioco così ci sta però giocaglielo eh però non faccio la quest facciamo così raga dobbiamo farla a quest e pescare la roba a zero dai tanto questa verità è difficile la vinciamo tutte sono difficili la vinciamo però colpo di schiena in più colpo di schiena quanto siamo? 14 quindi a questa è finita manca una carta prossimo turno è finita potrei finire un colpo di schiena cazzo mi serve poi vai deciso poi peschiamo una zero fai in fretta porco due fai in fretta fai in fretta fai in fretta fai in fretta minchia sto coso del timer porco mi hai pescato quella merda aria zero qualcosa per pescare qualcuno arriva uno yogi salvo misteria non mi interessa perfetto 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 va bene così va bene così ho doppio cipollotto peper madonna mia ma questo è un altro mazzo top tier tra l'altro 7 lasciamo fuori un po' di card poi c'entrano anche yogi se ce l'ammazza è un bene per noi attenzione ci sta poi rievochiamo cose niente che arriva perfetto tutti tutti dentro tutti dentro via the duck poodle perché poi possiamo rievocarli madonna che goduria rievocarli e ci divertiamo perderemo 50.000 di vita e questo è un esaltato dell'armatura è uno che proprio gode nell'armatura cioè non si attrae neanche per andare a dormire ci fa anche quelle cosacce lì nell'armatura buonasera socero ammazza ce li ammazza così poi trip e truppi e ci divertiamo tra un po' Robert vero Robert dai genio della finanza butta giù le carte dai butta 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 dai ma c'è fare una rimozione hai un miliardo di carte ma questo qua che è la gamma veramente bravo colpo di scudo morto e uno ma quello non ce lo ammazza però lo vuole tenere in control qua non c'è più niente dentro ci sono gli stanzetti potrei mettere dentro altri pezzi per Raffam dopo mi piace quanto quanti anni fa lo ammazza proprio ok io non pesco neanche qua chiaramente raga le nostre bombe ammazzaceli porca Eva devo rievocarmi tutta la gente non pesco nulla le tizze sai che sono stati Emiliano e Costanza mi sono quasi emozionato tantissimo infatti me la sto facendo sotto pesca 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 bravo bravo Mario Twitch e questo è il cugino di Mario Twitch tra l'altro ma non sto piando un po' di botte eiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaia little più quel professionista di una volta il nostro amico mario twitch allora io posso farmi anche delle cose qua comincio già a prepararmi il tavolo per dopo prepariamoci il tavolo per dopo ops ops caro amico ti scrivo così mi distrago un po ops hai visto cosa è successo ciubacca questo lo si chiama anche ciubacca gli amici lo chiamano anche ciubacca io 11 carte lo c'erano 15 mettendo più pezzi più pezzi qua bisogna risolverla da veri uomini allora prossimo che parte vediamo chi è finisce a pairo vuoi farla finire a pairo pairo ok hai ottenuto due demoni al fronte cos'è che ho ottenuto mi viene in paura scatoletta ok 12 magie tirate più 3 più 3 boom molo punizione sacrare palo più 1 più 2 bravo bramalo adattalo pure pesca due seguitori di merda tra l'altro ma non svuotarmi il mazzo gesù bambino boom 9 ma che cazzo è? ma perchè? fermi! basta! e beh ma è un professionista di queste minchiate questo non è del... aspetta però fermi! 8 carte se mi muoiono queste mi devo queste merde facciamolo subito give me the money uh... sweet sweet eh questo devo fare raga me l'ha giocati così avrà rissa eh... oh ritorsione ah ecco branco pazzo ritorsione papam dai fai sto ecco dai un po' veloce madonna vengo io a aiutarti dai che ce la fai fai di ecco bravo ma cos'è che sta facendo? uccide i nemici danneggiati cos'è che fa? bravo! piega dell'era bravissimo wow bravo e niente adesso andiamo di lui nooo! a me piace ancora questo che mi salva oh mio dio è impressionante si uh... ah no lui però ha fatto basta pescare eroro rinvieni angoro oh mio dio rinvieni angoro bummolo infestazione globale? no nulla che due armi dal mazzo allora cosa facciamo qua per non farci 10 carte ma non c'è più niente dentro interessante quindi io sto così mi tengo le 10 carte cambia poco e poi mi gioco il cipollotto ma rinveniamo angoro fa sempre sce... ma non è che merda che era angoro dai dai esaurito di merda sbrigati dai che adesso vediamo impressionante ti faccio vedere io impressionante adesso vai arciladro ci puoi sapere se non vinceremo mai sta partita però vedete che il mazzo c'è il mazzo c'è è un modo un po' purosolano di crederci ma il mazzo c'è ok basta lui non gioca vedi è lui cazzo si cazzo si ma uno sano c'è uno sano eh Mario non se lo troverò vabbè comunque avete capito la politica del mazzo quei 300 vittori lì è un po' di minchiate questo va però c'è tanta armatura ha 2000 rimozioni del mazzo ma non so che non c'è mano del morto o roba del genere che stronzo però posso riprendermelo dama goia dama che ingoia cortissima dami provocazione crudena lui 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 mi trasformo i cosi grandissima tecnica lo ripesco a zero madonna che mazzo e prenditi questo sangue di satana come si chiama di scortica l'animo tu sei il pro dei pro streamer duca non c'è più il sangue amici miei è saltato in aria l'archeologo supremo uh buono questa 1 però mi millerò si fa niente ormai ormai raga siamo alle cozze il sangue è rimasto solo ma che giocata è ma neanche l'eta sotto anfetamina ce l'avrei mai fatta saluto simone tanto c'ho un altro no anche questo chi è? rissa beh c'è la per forza però un po' le cozze non mi sembra più così in forma il nostro amico uh 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 è arrivato cipollone cipollone lo rimuove o lasciai stare non lo rimuove cipollone io non pesco raga su due carte non pesco lascio così pesco in emergenza scontiamo i nostri cipollotti ha preso danno? madonna ma perché non gli da il sangue di katoo? non l'ha preso non l'ha preso ancora il sangue di katoo ma che culone qua oh aspetta vediamo cosa c'ho uh bello questo bianca chioma bianca chioma è buona se tradiamo oh è delicio l'avevo visto e c'ho anche il cipollotto cipollotto eronimo ah questo è buono vai vai buttati buttati bella sta partita guarda il dk ah c'è il dk dov'è? c'è il suo dk non l'avevo visto raga grazie almeno su ciclo di natura in più potere non ci sarebbe più o meno le carte abbiamo finite ci voleva l'isiana o qualcosa del genere ma non ce l'abbiamo più è in difficoltà il nostro amico yuripek saluto yuripek i nostri mazzi sono sempre strapoetici tanto si attacca lì ecco si attacca lì e c'è sta roba qua eh bravo 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 che carte creative quella ma dove le avrà imparate queste carte raga rigenera va vai che lo doppia lo doppia lo doppia raga è fatta lo doppia mette un 3-3 grande tecnica barbina ancora ce l'ho lì si è ancora lì non te lo levi più dai coglioni dominio assoluto raga executus per chiuderla signori oh gesù maria cristo è una nuova espansione questa raga capiamo bene cosa fare raga non facciamo cagate executus per chiuderla no prima executus poi Garrosh no però poi si trasforma è vero deve morire lui è avventolo di morte raga ah executus e silla silla però devo shot taglielo questo lo silenzia ronin facciamo stiamo safe raga stiamo safe stiamo così stiamo così safe cosa mi ha dato 10 carte questa me la brucio spagate è una carta incredibile tipo yogi vabbè è troppo difficile sto mazzo da gestire è ingestibile è ingestibile sto mazzo mi ha dato un'altra rissa e ce l'avrà una rissa ok ma sto cazzo di sangue lui non lo prende mai e lì si era porca eva porca eva va bene oh bel sangue ma lui non lo trova il sangue ragazzi ma il sangue e il executus lo metto come ultima risorsa raga quando siamo alle cozze mettiamo il executus pesca lo sangue di merda due copie due copie di sangue di merda vai vai che siamo alle cozze quelle malate minchia se vinco queste da pesteggiamenti in piazza del comune però ho vinto hai vinto ho vinto altro che contro il warrior questo è un mazzo poetico il sangue ha fatto il suo effetto e ha voluto chiuderla raga ha voluto chiuderla potevamo stare lì un po' a cinciscare bella partita grazie a tutti